La regina non ci ha mai deluso durante i suoi incredibili 70 anni al trono e la gioiosa celebrazione di oggi con la sua famiglia non ha fatto eccezione. Ebbene, che giornata gloriosa si è rivelata! Il tuono improvviso di mille guardie sull'attenti. Lungo temola, a perdita d'occhio, le bandiere dell'unione così grandi, così belle, così tante, come sollevano il tuo cuore. La sensazione crescente che andava bene sentirsi orgogliosi di essere britannici, non possono arrestarti per questo, non ancora comunque. I nostri soldati, impeccabile, luccicante, senza sbagliare un piede. La ghiaia sotto i loro stivali lavata e pettinata. Tre adorabili pronipoti che sorridono e si esercitano a salutare in una carrozza aperta. Un principe Lewis di quattro anni permanentemente sbalordito che rende immediatamente un abito da marinaio il capo di abbigliamento più desiderabile del pianeta. Anche il tempo, freddo, cupo e sprezzante come un repubblicano corbinista, ha ricevuto il promemoria e si è ripreso appena in tempo. Il cappotto blu di Queen's Wedgwood si abbinava al cielo blu di Wedgwood. Perfezione! Come erano tutti felici di vedere sua maestà mentre usciva dal palazzo sul balcone, il monarca più longevo della storia britannica. Che gioia e sollievo! C'erano state voci ansiose che la regina potesse non essere presente per celebrare il settantesimo anniversario della sua scesa al trono. Più tardi, infatti, giunse la triste e preoccupante notizia che, dopo tutto, non avrebbe partecipato al servizio giubilare a San Paolo. Problemi di mobilità è il codice del palazzo per avere 96 anni ed essere sempre più fragile, cosa che è riluttante ad ammettere perché la nostra regina è orgogliosa e non pensa che sembri mostrare debolezza. Ma il balcone per la regina Elisabetta a Londra come per Giulietta Verona, non era negoziabile. Non ce l'avrebbe mai fatta, vero? Se sappiamo una cosa della regina, è che si fa vedere dal suo popolo. In un modo complicato da spiegare, ma facile da sentire, la sua storia è la nostra storia. Quando è apparsa per la prima volta su quel balcone, il palcoscenico dei nostri grandi tablo nazionali, Elisabetta Alexandra Mary aveva un anno e due mesi. Era il 1927 e il mondo era in bianco e nero. Sua madre, allora duchessa di York tenne in braccio il bambino per l'ispezione della folla esultante. La piccola principessa era accanto ai suoi nonni, la regina Maria e Giorgio Quinto, nonno Inghilterra. Non avrebbe mai dovuto essere la regina. Solo uno zio illuso, che è scappato con una divorziata americana, ha aperto la porta a questa possibilità. Come scioccante oggi, dopo che sono trascorsi sette decenni di sorprendente successo, pensare che la principessa Elisabetta non sia mai stata l'erede apparente, solo l'erede presunta, perché era solo una ragazza. Speravano ancora che arrivasse un ragazzo. Che ragazza, Dio gentile, quanto siamo stati fortunati. Settant'anni fa prima della sua incoronazione, un'innamorata Winston Churchill disse al Parlamento, Una figura bella e giovane, principessa, moglie e madre, è l'erede di tutte le nostre tradizioni e glorie mai più grandi che ai tempi di suo padre, e di tutte le nostre perplessità e pericoli mai più grandi in tempo di pace di adesso. È anche l'erede di tutta la nostra forza e lealtà unite, in un'era di Kardashian e schiuma di celebrità, è difficile capire che il lavoro della regina per tutta la vita non è mai stato incentrato sulla fama o sul potere, era una vocazione, una vocazione. Il sacro voto che fece quel 2 giugno era una santa trinità, continuità, dovere, lealtà. Una promessa che non ha mai infranto, e mai lo farà, sua maestà ha visto crescere e cadere orli e imperi. Ha avuto 152 visite di Stato, 14 primi ministri e 30 corgi. Probabilmente può identificare i cani prima dei politici, che è un altro motivo per cui la amiamo. La regina, però, rimane la regina. Nel 1977, quando a Philip Larkin fu chiesto di produrre una poesia per il Giubileo d'Argento, scrisse, in modo inequivocabile. In tempi in cui nulla reggeva, ma è peggiorato e è diventato strano, c'era un bene costante. Lei non è cambiata, e, inevitabilmente, tra i festeggiamenti c'era il senso di una fine. Questo è il primo Giubileo di Platino della nostra nazione e quasi sicuramente l'ultimo. La grande folla raggiante che scendeva verso il palazzo, cavalcando un'onda di gioia, e i milioni di noi che guardavamo a casa, erano uniti nel voler ringraziare la regina per celebrare tutto ciò che significa per noi. Finché c'è ancora tempo, guardare il principe di Galles, pensieroso a Trooping, decolor, guardare il duca e la duchessa di Cambridge, svalorditivi in bianco, fresco come un milkshake in una giornata estiva. Vedere il principe Giorgio, la principessa Charlotte, la star più naturale della famiglia reale dai tempi di Diana, e poi vedere la regina scendere per indicare gentilmente gli aerei in tempo di guerra che volavano sopra il piccolo, principe Louis, Lancaster e Spitfire, che la giovane principessa Elisabetta conosceva quando trasportavano veri proiettili e bombe, era guardare il passaggio del testimone. Questo è il modo in cui riempiamo la nostra storia nazionale. Questo è ciò che siamo. C'erano così tanti punti salienti. Come Harry. No, non il principe. Harry ed Eddie erano magnifici cavalli della contea che trasportavano con calma grandi tamburi sulla schiena durante la parata. Secondo solo a Seamus, Wolfhound, mascotte del reggimento delle guardie irlandesi e uno dei ragazzi, secondo solo per la magia degli animali da furto di scena, secondo il suo padrone. Kirstie Young ha ancorato la copertura della BBC con una serenità adorabile, calda e generosa. Per fortuna, non si sarebbero ripetute le sciocche e sciocchezze durante il giubileo di Diamante e il terribile spettacolo del Tamigi, che sembravano progettati esclusivamente per dare ipotermia alla regina e al duca di Edimburgo. Ci è mancato Filippieri, c'è uno spazio al fianco della regina a cui appartiene. Deve sicuramente condividere il merito del suo straordinario regno. Sir Michael Palin ha giustamente individuato la benevola neutralità della regina che è difficile da raggiungere. Tutti, inclusa sua maestà, rimasero senza fiato per il piacere quando 15 combattenti Typhoon si formarono in un gigantesco 70 per celebrare gli anni del suo regno. Niente vacanze cancellate o posticipate se mettessero quei giorni della RAF a capo delle nostre inutili compagnie aeree. Soprattutto, forse, c'era il semplice piacere di poter esprimere ammirazione per la famiglia reale e il patriottismo senza timore di essere ridicolizzati. Per un giorno felice, e glorioso, i britannici sono stati le persone bonarie, inclusive, alla Union Jack, un decimo leggermente matte, questa è la nostra vera identità nazionale. Siamo i migliori in queste cose cerimoniali, esclamò Dame Kelly Holmes, con un aspetto elegante nella sua uniforme di colonnello onorario del corpo corazzato. Dannazione, lo siamo Kelly. Il miglior sfarzo, le migliori melodie in marcia, man over leg, i migliori soldati che suonano la tuba a cavallo, è vero, altri paesi potrebbero non tentarlo, gli alberi migliori e più verdi, la migliore bandiera, la migliore regina. La migliore regina che un paese abbia mai avuto, in realtà, Dio la salvi, la nostra monarca non è un intellettuale, molto simile alla sua gente in questo senso, come nel suo amore per gli animali, ma una volta disse, la corona è un'idea, non una persona. È un'idea, e lei l'ha incarnata brillantemente. In un documentario sui gioielli reali, la regina Elisabetta II ha guardato la cosa che hanno messo sulla sua testa assurdamente giovane 70 anni fa e ha osservato, come solo chi l'ha indossato potrebbe, la corona è così pesante che non puoi guardare in basso. Se guardassi in basso ti si spezzerebbe il collo, non ha mai guardato in basso, solo avanti. Un bene costante, lei non è cambiata, gran nonna Inghilterra.